Allora, il senso della seconda azione che abbiamo messo in campo è quella di liberare le auto, diciamo, la strada dalle auto, quindi non è solamente il discorso della domenica ecologica e quindi di limitare il traffico veicolare, ma di eliminare le auto e poter ammirare la nostra isola nella sua bellezza. È un momento, diciamo, libero di condivisione dove ogni cittadino, ogni visitatore può fare delle foto che solitamente non riesce a fare perché ci sono gli ingombri delle auto. È un'iniziativa che si può ripetere sicuramente durante l'anno, in momenti diversi, con attenzioni diverse e faremo tesoro anche, voglio dire, delle criticità che ci sono state sollevate. Allora, mi chiamo Lucia Di Sarno, vengo a Procida da 53 anni, avevo due bambini, me ne ho tre grandi e sono nati, la terza è nata proprio qua, ci sono troppe macchine, troppe e noi facciamo almeno quando più possibile di non uscire con una macchina per motivi di salute per fare solo la spesa e poi basta perché dobbiamo dare un po' la gente, abbiamo bisogno di aria, di vivere bene, di aria salutare. Qui a Procida, 53 anni fa, veramente, era una favola, ma fine pochi anni fa. Si camminava a piedi che è una bellezza, io ho cinque nipoti, loro camminano a piedi, vanno giù alla marina, ovunque vanno, non usufruiscono di nessun mezzo, camminano a piedi perché noi siamo delle persone che amiamo la natura e vorremmo che la natura si rispettasse. Stamattina stiamo condividendo questa bellissima giornata ecologica, come da quando siamo nate ci interessiamo con sinergia d'arte, di progetti che promuovono la fotografia, l'arte, la cultura, quindi questa giornata non poteva che essere per noi motivo di partecipazione. Con un gruppetto di fotografi amatoriali e non ci siamo mossi da Marina Chiaolella stamattina alle nove per scoprire i passaggi più belli, i luoghi, gli scorci, gli angoli più caratteristici che soltanto a piedi, soltanto nella tranquillità riusciamo a scorgere ed accorgerci e quindi come sinergia siamo qui proprio per sostenere, promuovere con i nostri suggerimenti, con le nostre ispirazioni una giornata così importante per l'isola. Allora sicuramente la visione dell'isola senza auto ci aiuta a rallentare tutti i nostri ritmi e in questa passeggiata che abbiamo fatto per il borgo della Chiaiolella anche io mi sono accorta di scorci che passando velocemente perché siamo sempre di corse non avevo notato, ho fotografato degli archi, delle scale, delle rampe, le persone che magari sono lì semplicemente a prendere, a fare colazione, a accorgerci della bellezza che ci circonda e che spesso non torturiamo perché andiamo proprio di vita.